La musica di Franco Battiato questa era segnali di vita e non è un caso, è un segnale possiamo dire così che ci ha voluto dare la prima ospite di questa sera che è Federica Francesconi, benvenuta Ciao Fabio, ciao a tutti Allora, filosofa, teologa, esoterista e cura anche un blog è un blog che si chiama Verità, Giustizia, Bellezza, federicafrancesconi.blogspot.it è un brano appunto che ha scelto proprio Federica che forse ci serve anche per iniziare questa chiacchierata che ne dici? Come ce lo puoi legare? Ma sì, questo è uno dei miei testi preferiti di Battiato che mi rimanda un po' a questa crisi dell'umanità questa vera e propria crisi antropologica che non è soltanto una crisi del sistema economico ma proprio una crisi dell'essere umano che ha un po' per così dire perso l'anima o gli è stata rubata, no? L'anima che come la intendeva Platone è sostanzialmente un desiderio del bello, del bene della nobiltà d'animo, della purezza interiore tutte qualità che al giorno d'oggi sono considerate per così dire superflue se non un vero e proprio ostacolo diciamo alla realizzazione nella società e quindi l'uomo ridotto come diceva il filosofo Herbert Marcus l'uomo ridotto a una dimensione, no? Quella del corpo, della materialità, dell'efficienza Secondo te ecco questo stato diciamo si è aggravato negli ultimi anni oppure ecco si può parlare ecco di una modernità in cui si è arrivati ecco questo che tu chiami un po' popolo senza anima Certo, sì io credo che questo processo di disgregazione, di dissoluzione che prima di tutto è una dissoluzione interiore che poi ha anche un riflesso poi all'esterno quindi nella società, nelle istituzioni e si è aggravato negli ultimi 150 anni della nostra storia e si è aggravato sostanzialmente io addebito questo aggravamento a tre processi che si sono intersecati tra loro che sono il primo lo scientismo quindi questa fede assoluta nella scienza nella sua onnipotenza, no? La scienza vista come un dio anzi la scienza che si è sostituita a dio, no? a cui, alla quale le persone devono appunto credere ciecamente e che non possono, di cui non possono mettere in discussione i postulati e questo è veramente grave perché non si era mai vista un'epoca, nemmeno in epoca illuministica, no? non si era mai vista una deriva scientista così grave che riduce l'uomo a una macchina, a un'automa e quindi lo disumanizza e poi c'è un secondo processo che è quello del riduzionismo e si lega al discorso che ho fatto prima quindi l'uomo che non ha più anima non ha più desiderio di bellezza di assoluto ma vive soltanto di istinti corporali di materia e di edonismo e poi c'è un terzo processo che è quello dell'efficientismo e questo processo è molto grave perché è innescato dal sistema economico attuale che è il neoliberismo, no? per cui l'essere umano deve mostrarsi efficiente in tutti gli ambiti della sua vita in primis nel lavoro non può permettersi debolezze deve vivere per il lavoro deve consumare, produrre e poi morire in questo quadro per così dire a tinte fosche abberrante è tagliata fuori la dimensione della spiritualità non c'è più spazio per la spiritualità quindi anche per l'amore, no? tra gli uomini per il bene inteso proprio come bene collettivo non come bene egoistico e quindi di conseguenza l'umanità sta pagando sgando questa cecità che ormai dura da diversi secoli per te che cos'è la spiritualità? amore appunto tra gli uomini e cos'altro? la spiritualità è desiderio dell'assoluto e quindi è un qualcosa di molto diverso se non è antitetico alla religione intesa come forma istituzionale quindi mi riferisco alle religioni storiche che hanno un ruolo hanno un ruolo importante a volte positivo a volte negativo comunque servono perché religione deriva da religio che in latino significa unire, legare quindi sono un collante per l'umanità come lo è lo Stato come lo sono altre organizzazioni umane però ovviamente la religione ha dei limiti perché la religione è confinata all'interno di steccati dogmatici insomma dottrinali eccetera la spiritualità la spiritualità invece è un qualcosa che riguarda la persona e non usa a caso questa parola persona ed è il dialogo diretto con l'assoluto con questa realtà che ci sovrasta che alcuni chiamano Dio altri chiamano con altri nomi questa realtà è questo altro da sé che c'è dentro di noi è una dimensione spirituale è una dimensione insopprimibile dell'essere umano e tutti nasciamo con una dimensione spirituale anche gli atei che che ne dicano hanno questo desiderio di andare oltre di cercare di superare se stessi questa è la dimensione spirituale vera e propria che poi può per così dire corrompersi perché purtroppo la dimensione spirituale fa parte dell'essere umano e l'essere umano è bene e male è luce e ombra e quindi in alcuni uomini questa dimensione può deviarsi può corrompersi e può quindi per esempio assoggettarsi alle logiche del potere prima di entrare appunto nel tema proprio del potere a cui è dedicato il tuo ultimo articolo sul tuo blog si diceva prima della dimensione prettamente materiale in cui vengono veicolate le vite di molte persone diciamo della maggioranza delle persone noi parliamo spesso anche di questo mantra ad esempio del lavoro questo martellamento continuo da anni come se appunto il lavoro fosse l'unico fine di una vita al di là di quelle che sono le legittime passioni di ognuno di noi che se coincidono con il lavoro ovviamente benvenga dovrebbe essere appunto un qualcosa che fa stare bene fare un'attività qui invece viene presentato come un qualcosa sostanzialmente che devi accettare per la sopravvivenza a prescindere spesso da quali siano le condizioni da quali siano anche le modalità poi che quel lavoro ti permette di vivere la tua vita e che se non hai questo benedetto lavoro ovviamente quasi non sei degno di vivere nella società ecco dietro tutta questa visione materialistica c'è cioè i mandanti tra virgolette sono diciamo entità secondo te terrene quindi ora entriamo nel discorso del potere oppure come ci sono anche ricercatori che sostengono questo c'è qualcosa che va al di là diciamo della terra dell'uomo terreno sì è una domanda da da un milione di euro diciamo così no sarò molto schietta dunque per quanto riguarda i mandanti terreni i mandanti terreni sostanzialmente vanno identificati con l'uomo con la sua imbecilità congenita con il appunto con la sua incapacità di evolvere da da animale a essere spirituale e quindi con il suo voler rincorrere gli istinti bassi c'è una suggestiva immagine di di un mito di platone il mito dell'auriga con i cavalli dei due cavalli dove appunto l'anima dell'uomo è trascinata da da questi due cavalli uno dei quali è bianco e rappresenta l'anima superiore invece l'altro cavallo è nero e quindi rappresenta l'anima inferiore quindi la bestialità e gli impulsi primordiali e quindi l'anima ha questa capacità di elevarsi se si fa guidare dal cavallo bianco invece di abbassarsi quindi negli stati inferiori dell'essere se segue il cavallo nero e questo per quanto riguarda il piano terreno per quanto riguarda il piano ultraterreno e quindi ovviamente metafisico questa è una domanda a cui io purtroppo non so dare ancora una risposta diciamo completa nel senso che io credo fermamente che ci siano diversi piani dell'essere quindi non soltanto quello che noi appunto identifichiamo con il cosmo con l'universo che è la parte visibile dell'essere ma ci siano anche altri piani come insegnano le dottrine esoteriche di varie tradizioni spirituali per esempio la Kabbalah ma anche il misticismo cristiano spiega questo oppure la tradizione sufi oppure ancora la tradizione hindu quella buddista ci sono altri piani dell'essere e che questi piani siano tutti sintonizzati a livello di per così dire di energia di energia spirituale con l'assoluto io su questo non posso garantire anzi è probabile il contrario è probabile che ci siano alcuni chiamiamoli così ultramondi o universi paralleli dove è molto è possibile che gli esseri che abitano questi ultramondi non siano in armonia con il creatore ma questo succede nella terra quindi se succede nella terra che è un pianettino diciamo sperduto in un sistema solare della periferia di una piccola galassia può succedere dappertutto magari questi esseri sono evoluti dal punto di vista tecnologico o anche dal punto di vista delle capacità non so paranormali però non sono evoluti dal punto di vista spirituale che questi poi vadano identificati con gli angeli caduti piuttosto che con gli arconti di tradizione gnostica cambiano i nomi ma insomma la sostanza rimane uguale non so se sono stata esaudiente nella risposta assolutamente anche perché la risposta nessuno di noi ce l'ha è chiaro che andiamo a cercare di analizzare bisogna sempre esercitare il dubbio perché quando tu dubiti ciò ti sprona a ricercare a ricercare sempre un'ulteriore risposta mai accontentarsi delle risposte parziali perché nessuno ha la verità assoluta nessuno la verità è ricerca continua infinita allora tu parlando del potere diciamo esordisci quasi questo tuo articolo dicendo il potere non deve essere identificato con strutture e istituzioni politiche ed economiche visibili all'occhio profano il potere è prima di tutto una dinamica un rodaggio di per sé immutabile che si perpetua nel corso dei secoli attraverso molteplici forme e modalità quindi è un qualcosa quasi di invisibile sì è un qualcosa di invisibile e che tuttavia permea insomma la vita la vita umana è per così dire anche una una dimensione presente nell'essere umano che purtroppo non può essere eliminata e diciamo come ho scritto anche nell'articolo che hai citato è una una dinamica una dinamica che si alimenta da sé che si alimenta da sé nel corso dei secoli che si perpetua perché comunque si basa su meccanismi psicologici che l'essere umano non è ancora riuscito a debellare dentro di sé per meccanismi psicologici di potere mi riferisco ovviamente all'egoismo alla rapacità no alla violenza c'è un bellissimo saggio di un antropologo francese René Girard che parla per esempio dell'utilizzo in tutte le culture in tutte le civiltà insomma da quelle adamitiche in poi del capro espiatorio quindi è un meccanismo di coercizione che si ripete all'infinito pensiamo per esempio alla caduta delle torri gemelle del 2001 e poi alle successive guerre disumane e ingiustificabili che gli Stati Uniti hanno fatto contro popoli innocenti distruggendo paesi interi e lì in quelle vicende ha agito il meccanismo del capro espiatorio quindi la vittima sacrificale che appunto deve essere sacrificata per per così dire acquietare la divinità è purtroppo un meccanismo che si che si ripete da secoli questo meccanismo è stato combattuto da molti saggi illuminati da molti da molti esseri spirituali per esempio da Gesù Cristo che appunto muore in croce perché rifiuta rifiuta proprio quel meccanismo che che ne dica la Chiesa cattolica Gesù non è una vittima sacrificale Gesù ha combattuto il potere e lo ha fatto fino alla fine ci sono tanti episodi del Vangelo che dimostrano come Gesù fosse consapevole di questo meccanismo e di come lo abbia combattuto fino alla fine tu poi citi alcuni personaggi molto conosciuti Saviano Angela Scalfa eccetera che ruolo hanno personaggi tipo questi sì sono tutti intellettuali anzi sarebbe meglio chiamarli pseudo intellettuali che sono funzionali al sistema sono degli araldi ciascuno nel proprio campo sono degli araldi del pensiero unico quindi quel pensiero che vieta di pensare di uscire per così dire dagli schemi di quello che il potere vuole che tu pensi e che sono anche dei fustigatori per cui hanno il ruolo di fustigare tutte quelle opinioni e quelle posizioni che sono contrarie al conformismo e all'omologazione che il potere comunque promuove da anni purtroppo quando per esempio ho citato un articolo di Eugenio Scalfari sulla Repubblica in cui parlava della creazione degli Stati Uniti d'Europa dicendo in quell'articolo la cosa grave è che Scalfari scrive a chiare lettere che questo processo si deve fare cioè l'unificazione cioè la creazione degli Stati Uniti d'Europa si deve fare a prescindere di ciò che i popoli europei pensano e che questo processo deve essere guidato dalle elite economiche allora più chiaro di così te lo dice proprio papale ma pane sì sì se insomma se vuoi dopo ti posso anche se trovo l'articolo te lo mando sì sì più o meno insomma non sono non saranno le parole identiche però il succo del messaggio però mi ricordo che ho usato la parola elite elite economico politiche secondo te questi sono modi ecco per plasmare questi concetti considerandogli quasi dei monoliti qualcosa che non si non si può non si possono contestare no ci sono dati di fatto che li fa passare in questo modo in chi legge oppure sono messaggi veicolati cioè messaggi tra virgolette non tanto in codice perché qui è chiarissimo cioè quale finalità hanno secondo te che scalfa in un editoriale scriva queste cose secondo me sono rispondono a entrambi gli scopi che tu hai citato quindi sono sia dei messaggi in codice che diciamo gli appartenenti a questo al sistema si mandano e si ha delle armi di manipolazione di massa per cui in Italia sta crescendo una opposizione sempre più consapevole all'Europa quindi alla tecnocrazia diciamo per così dire al monopolio di processi decisionali importanti che sono stati strappati ai cittadini italiani per essere consegnati alle istituzioni europee quindi il popolo italiano sta sempre più prendendo coscienza di questo fatto e quindi tutti gli intellettuali fedeli al sistema ma stanno un pochino serrando i ranghi cioè sono stati richiamati capisci Fabio devono fare tutti devono essere compatti nel nel combattere questo movimento d'opposizione fino a stravolgere la realtà chiamando per esempio questi tra virgolette ribelli fascisti xenofobi e qui mi riallaccio anche a quello che Carpeoro ha detto ieri anzi anche due settimane fa si tratta purtroppo di utili idioti utili idioti del sistema che devono tacciare di fascismo e di xenofobia o di populismo tutto ciò che è contrario al nuovo ordine mondiale e perché sono pagati per questo altrimenti non starebbero lì dove sono parli di evanescenza tra gli inganni del potere c'è quello di far credere che ci sia una parte politica che possa essere identificata con la destra o sinistra ma non necessariamente perché vediamo adesso il Movimento 5 Stelle e appunto tu lo definisci evanescente con un non programma a che cosa è funzionale secondo te il Movimento 5 Stelle? Sì ti ringrazio per la domanda sì il Movimento 5 Stelle dal mio punto di vista che per carità può essere anche riduttivo sbagliato però insomma al mio punto di vista in base a quello che ho compreso in questi anni il Movimento 5 Stelle purtroppo è funzionale al mantenimento dello status quo perché perché non ha un programma io mi sono andata a leggere il programma di questo Movimento non ho letto delle posizioni nette su vari aspetti della politica su vari ambiti quali ad esempio la politica estera ma soprattutto la politica economica il Movimento 5 Stelle non si dichiara né a favore né contro l'euro né a favore della permanenza anzi si dichiara più a favore della permanenza in Europa che è dell'uscita dalla stessa o comunque non accenna nemmeno come fa per esempio e qui gliene do atto il Movimento Roosevelt non accenna nemmeno a una qualche forma di contrattazione con l'Europa e questa per me è una mancanza molto grave perché comunque lasciare inalterati i parametri i parametri di Maastricht che sono quelli che hanno strozzato l'economia italiana e quindi il popolo italiano cioè è qualcosa che un movimento che si dichiara dalla parte del popolo non può ignorare o perlomeno deve esprimere una una posizione netta su questa su una questione così delicata io mi auguro che lo faccia in futuro ma sono piuttosto escettica ecco come vedi non so se chiederlo la tua parte filosofica o anche ecco negli altri ambiti della tua conoscenza che cerca perché siamo partiti parlando dell'umanità sì ecco qui abbiamo poi sono anche molto permalosi quindi comunque le persone che sicuramente in buona fede credono e seguono il movimento 5 stelle molte persone io le vedo sono veramente persone in buona fede pensano che effettivamente alcuni dei principi positivi che magari sono anche cose di buon senso sulle quali si può essere d'accordo che però appunto non è che poi quelle da sole spostano gli equilibri appunto del potere ecco come giudichi questa massa ecco di chiamiamola grillina che io lo vedo anche lo vediamo nei commenti anche a queste trasmissioni di Carpeoro che sono stati commenti molto duri alle posizioni espresse da Carpeoro cioè il fatto che non si vedano certe contraddizioni appunto che non si veda questa evanescenza che si faccia sempre di una massa quasi indistinta che partendo magari da principi positivi in questo caso se pensiamo anche al grillo insomma degli anni 90 almeno agli spettacoli che diceva certe cose poi si è arrivati invece a questo Movimento 5 Stelle di oggi dove si fa fatica ecco a ritrovare quelle origini sì guarda posso appunto risponderti con la mia insomma posso darti una risposta filosofica ecco che l'uomo purtroppo ha bisogno di credere ciecamente a qualcuno o a qualcosa perché questo ruolo fino a un secolo fa in Italia soprattutto era rivestito dalla Chiesa oggi che la Chiesa sta crollando e anche le ideologie politiche sono crollate e quindi mi riferisco all'ideologia insomma al comunismo e anche insomma all'ideologia delle destre e purtroppo l'uomo ha questa indole per cui è più forte di lui aggrapparsi contro ogni buonsenso contro ogni capacità critica aggrapparsi a un sogno a un sogno a un diciamo un desiderio di riscatto no? E questo è anche umanamente comprensibile però se per far questo si deve disinestare il cervello allora non va più bene perché va bene sì insomma nutrire delle speranze delle aspettative un movimento per così dire alternativo ma neanche tanto che si presenta dalla parte del popolo che dichiara proclama gran voce di combattere la corruzione eccetera eccetera però poi bisogna anche accendere il cervello è valutare criticamente fatti e anche i dati e i fatti purtroppo e lo dico con dispiacere perché anche io insomma avevo delle aspettative verso il movimento 5 stelle però i fatti non depongono a favore del movimento 5 stelle sappiamo i legami tra Di Maio o almeno tutti no alcuni alcuni sanno conoscono i legami tra Di Maio e l'elite americane per fare un esempio Di Maio diciamo come possiamo definirlo un la persona giusta al momento giusto io penso che lui diventerà presidente del consiglio il movimento questa insomma è una previsione che io faccio ma può anche essere sbagliata perché non ho la palla di cristallo nelle mani però c'è una buona probabilità che Di Maio diventi il prossimo presidente del consiglio perché qualcuno lo vuole lì ma chiediamoci perché faranno andare il movimento 5 stelle al governo per cambiare tutto o per non cambiare nulla perché da che mondo è mondo in Italia da Aldo Moro in poi non è cambiato nulla ma è solo peggiorato tutto tra l'altro poi in questi giorni stiamo assistendo ne parlavamo proprio con Carpeoga domenica scorsa a queste posizioni un po' inconsuete per Renzi che prima ha attaccato tramite quella mozione che Visco quindi diciamo l'espressione del banchiere dei banchieri della finanza e poi ha attaccato a Dittuca la Boldrini a seguire quindi sembra esserci come dica una sorta di smarcamento che forse c'è stato nei suoi confronti e lui risponde in questo modo tu come la vedi? ma sì guarda io ho ascoltato ieri la puntata di Carpeolo racconta e sono perfettamente d'accordo con lui cioè Renzi adesso sta facendo la parte del bambino offeso e quindi deve farla pagare a chi gli ha fatto il dispettuccio il dispettuccio di mandarla a casa e di sostituirlo con un altro utile idiota adesso lui fa finta di perché è una finzione questa e anche lì sta mandando dei messaggi a qualcuno facendo così lui manda dei messaggi soprattutto a Draghi loro comunicano così Fabio comunicano con queste uscite questi slogan per cui fanno finta di oggi di essere contro il potere però domani poi sono disposti ad allearsi di nuovo col potere se il potere li prende di nuovo in considerazione quindi su Renzi per me è un fuffaro è un ciarlatano e lo resterà sempre non ci si può fidare di uno come lui e se adesso sta cavalcando l'onda controvisco è perché sta mandando dei messaggi a chi li deve ricevere c'è un tuo articolo e ci allacciamo anche a quello che dicevamo prima sul lavoro in cui tu parli della liquidità del mondo moderno con una lettura simbolico alchemica viene citato anche da lì in questo con un suo dipinto la nascita dei desideri liquidi ecco tra l'altro inizi dicendo facendo questa domanda che cosa ha comune il precariato come forma pervasiva del mondo del lavoro i processi migratori senza controllo l'edonismo come meta finale della vita il senso di instabilità esistenziale che ciascuno di noi a modo suo sperimenta nella vita reale e in quella virtuale ecco la famosa società liquida che aveva profetizzato Bauman è diventata realtà è andata oltre quella che era la sua analisi no credo che corrisponda perfettamente ancora alla sua analisi diciamo che la liquidità purtroppo è diventata la cifra del reale per cui prima parlavo per esempio di un attacco frontale al welfare state con la polverizzazione dei diritti con l'abrograzione di fatto dello statuto dei lavoratori che ha istituzionalizzato delle forme di precariato quindi l'esistenza umana e liquida non ci sono più punti di riferimento stabili non ci sono punti di riferimento stabili nelle istituzioni perché le istituzioni in primis quelle economiche e politiche si sono vendute al neoliberismo si stanno prostituendo da una trentina di anni a questa parte ai poteri al potere e all'elite economiche del mondo non ci sono punti di riferimento neanche dal punto di vista culturale e religioso per esempio per cui le chiese crollano non sono più in grado di dare delle dritte alle persone lasciandole quindi per così dire in balia di se stesse la cultura almeno in Italia non esiste più perché la cultura ormai è assoggettata diciamo al mondo del lavoro e appunto a quel processo che ho descritto prima che è l'efficientismo per cui la cultura è una zavorra anzi è molto pericoloso è uno strumento molto pericoloso perché la cultura io parlo ovviamente di una cultura come strumenti di leggere criticamente la realtà non come per così dire erudizione eccetera la cultura intesa in senso critico è un pericolo per il potere e per il pensiero unico per cui per esempio si inquadra in questa in questa direzione anche la la proposta fatta dalla ministra o ministro dell'istruzione di ridurre i licei da cinque a quattro anni per esempio oppure appunto di di far diventare icone della cultura personaggi ambigui come Roberto Saviano che tra l'altro non vive più in Italia però pontifica sempre sui problemi di questo paese però dall'alto del suo attico di New York anche noi pontificheremmo bene eh sì anch'io mi sentirei libera di andare in tv e sprolocchiare e dare lezioni di moralità e dire dovete accogliere i migranti tanto lui comunque nel suo attico di New York non viene toccato da questi problemi ecco lui è uno diciamo di quei totem no che non puoi mettere in discussione perché significa mettere in discussione la lotta la camorra perché lui vi sottoscorta per le cose che ha detto e scritto a parte che sono cose che hanno detto e scritto tanti altri no che probabilmente non sono sottoscorta però ecco è proprio un modo di utilizzare queste figure come dicevi prima non solo come figure ecco che non puoi criticare sostanzialmente non puoi mettere in discussione però veicolano questi messaggi dall'alto ecco di un attico in questo caso certamente perché sai un tempo c'erano i santi della chiesa cattolica adesso invece ci sono i intellettuali del sistema volevo un attimo sì dimmi no 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 scusa volevo solo aggiungere una battuta un po' cattiva non è non è più il tempo dei Savonarola e dei Giordano Bruno eh no oppure ci sono ma diciamo che vengono vengono emarginati ognuno nel suo campo se sono medici vengono radiati e veicendo vorrei vorrei entrare un attimo nella dimensione anche esoterica per chiederti abbiamo avuto diversi ospiti in questi anni che comunque hanno fatto ricerche di questo tipo secondo te ecco innanzitutto l'esoterismo diciamo tra virgolette serio che quindi si discosta da spesso delle delle sue rappresentazioni a volte anche un po' carnevalesche una conoscenza sia che esoterica quanto è diffusa in Italia? pochissimo pochissimo e non è una questione di appartenenza a a religioni eh ordini eh loggie eh massonerie eccetera quanto eh questi eh queste organizzazioni eh questi gruppi eh di per sé mh non sono capaci ehm cioè non hanno la garanzia eh di trasmettere un sapere veramente esoterico io per sapere esoterico ovviamente intendo un sapere una conoscenza eh che eh porti l'uomo a che sia in grado di far elevare spiritualmente l'uomo no? eh che gli faccia anche acquisire una quella quella visione critica eh di cui parlavo prima no? Una visione che gli antichi chiamavano sub specie eternitatis mh quindi una visione alto mh non visione al di sopra del bene e del male perché siamo immersi ciascuno di noi è immerso nel male eh nel bene come nel male però comunque che che acquisisca che sia capace di acquisire e di mantenere nel corso del tempo una visione critica eh sul mondo eh e sui processi no? sui processi della storia è già una buona base di partenza eh sicuramente eh l'esoterismo l'esoterismo di una certa levatura mh può fornire all'essere umano degli strumenti eh degli strumenti per liberarsi dai condizionamenti del potere per uscire anche dagli dagli schemi no? eh ideologici per esempio eh e quindi eh questa questa conoscenza esoterica noi la troviamo in tutti i gruppi ma in tutti i gruppi umani ma in nessuno in particolare lo so è una contraddizione in termini però eh purtroppo per come è messa eh l'umanità mh c'è uno sfascio totale purtroppo nessuna istituzione eh Carpeoro lo sa molto bene è più in grado di eh di quella quella conoscenza esoterica chi fa la differenza è il singolo quindi abbiamo dei Carpeoro Carpeoro ma purtroppo abbiamo anche molti molti ciarlatani insomma che si spacciano come maestri esoterici e che invece sono purtroppo delle delle insomma delle nullità e che per di più eh manipolano anche le persone dipende il singolo che fa la differenza il potere usa l'esoterismo sì è un uso deviato ehm anche se sì eh che poi usa l'esoterismo e lo snatura poi in occultismo quindi in in pratiche magiche come ad esempio la la goezia insomma la necromanzia chiaramente eh però il vero esoterismo è quello che lavora mh per il bene del singolo e dell'umanità cioè il vero esoterismo non potrà mai farti eh abbracciare una visione elitaria dove per esempio una visione dove eh ci sono delle delle piccole cerchie eh delle piccole congreghe che comandano il mondo e poi abbiamo invece delle masse emarginate e diseredate che come appunto dicevamo prima devono soltanto eh lavorare e poi crepare questo il vero esoterismo non potrà mai insegnare una cosa del genere e tutti i maestri eh i maestri veramente eh veramente iniziati come Gesù Cristo il Buddha eh e tanti altri eh ce ne sono stati tanti altri nella storia non hanno mai insegnato questo tipo di cose quindi il potere ecco in chiave negativa fa più uso di occultismo che di esoterismo sì la base è insomma teorica se così possiamo possiamo chiamarla è l'esoterismo che poi viene però piegata a fini a fini occulti quindi poi scade appunto in in pratiche magiche come ad esempio la necromanzia quindi hanno conoscenze di questo tipo del mostro di Firenze per esempio sì dimmi dimmi mi interessa no 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 era solo come la vicenda del mostro di Firenze che è una vicenda infinita però lì chiaramente c'era un gruppo un gruppo una congrega non so come possiamo chiamarla di persone che alcuni identificano con la rosa rossa lì sicuramente c'era una conoscenza esoterica molto profonda però profonda non significa votata al bene hanno usato quella conoscenza l'hanno piegata a fini occulti per fare del male alla gente e quello non è esoterismo quello è possiamo chiamarlo anche satanismo ma non nel senso di satanismo come diciamo adorazione di satana il satanismo non è soltanto adorazione di satana il satanismo è quando tu consideri gli esseri umani come degli oggetti come delle nullità e quindi fai di loro quello che vuoi ecco questo fatto del fare del male perché tutti i giorni il caso ovviamente del mostro di Firenze è una vicenda che poi ancora oggi anche questo colpisce anzi ti faccio subito questa domanda è un caso al di là che è un caso è un unicum diciamo nella cronaca italiana cioè una serie di delitti attribuiti alla stessa mano che colpisce per un numero di anni comunque in gente senza avere mai avuto anche ufficialmente una sicurezza al di là dei processi che poi si sono smentiti come spesso o quasi sempre capita nei casi mediatici però il fatto che un caso del genere continui ad attrarre così tanto c'è un gruppo addirittura su Facebook dove delle persone appassionate di questo caso hanno deciso di fare delle ricerche sul campo tornano oggi a distanza di 40 anni anche di notte fanno dirette Facebook dai luoghi per capire ricostruire uno si chiede come mai anche di fronte a tanti episodi che accadono oggi nella contemporaneità c'è questa attrazione verso questa storia mi scimetto anch'io da un punto di vista giornalistico è un qualcosa che inevitabilmente anche in modo ci si rende conto tragico però ti spinge ad interessarti fa parte di quel qualcosa di esoterico che questa vicenda ha dentro di sé sì guarda ricollegandomi al discorso sulla dinamica del potere che abbiamo fatto prima perché nel caso secondo me nel caso nel mostro di Firenze ma anche nel caso di David Rossi per esempio è proprio in quelle vicende in quelle vicende ferate che vengono fuori i meccanismi del potere deviato e quindi della magistratura deviata delle forze dell'ordine deviate del giornalismo deviato perché affascina e attrae così tanto il mostro di Firenze perché la gente inconsciamente capisce che lì c'è qualcosa che non torna ma non qualcosa che non torna nella psiche malata di qualche guardone che ha fatto il palo che forse avrà fatto il palo quindi mi riferisco a Pacciani e ai compagni di Merenda ma c'è qualcosa che non torna a livello macro a livello di collettività di istituzioni c'è ma la gente o almeno alcune persone se lo se lo dicono lo ammettono c'è qualcosa che non va come per esempio io e te e tanti altri c'è la magistratura non ha funzionato non ha lavorato bene oppure era coinvolta no ma in molte persone questa cosa è inconscia non non riescono a dirselo Fabio perché altrimenti cadrebbe tutto il castello cioè sentono sentono dentro di sé che c'è qualcosa che non va e quindi è spinta a seguire queste vicende in questo senso sì 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 penso di sì però è molto difficile come dire inquadrare queste vicende in una visione più ampia ed integrata no sulla natura del potere su come funziona su come si infiltra nei gangli dello Stato questo purtroppo molte persone non hanno gli strumenti per afferrare questa gravissima realtà la domanda la domanda che poi credo aver rivolto sicuramente alcune volte anche a Paolo Franceschetti in questi anni poniamo il caso che ci siano del appunto personaggi di spicco che o eseguono addirittura direttamente o comunque commissionano o assistono a omicidi delitti efferati hanno la convinzione che questa sorta di rito produca degli effetti oppure siamo nel campo e questi effetti diciamo hanno anche una possibilità che si materializzino oppure siamo nel campo diciamo psichiatrico nel senso che come tanti ci hanno detto anche tra cui una ricercatrice che poi ha iniziato poi a occuparsi di altro un'antropologa anni fa adesso non la ricito perché credo che diciamo abbia cambiato completamente ricerche che ci raccontò che appunto in base ai suoi studi nel potere nelle persone che hanno comunque ruoli di potere si celassero molti psicopatici c'è una probabilità altissima che uno psicopatico si trovi in un ruolo di potere che sia pubblico o privato ecco quindi non so quanto è labile il confine ecco tra diciamo psichiatria e invece appunto esoterismo nero esoterismo deviato chiamiamolo come vogliamo sì cerco un attimino di panare la matassa allora per quanto riguarda la prima osservazione che hai fatto su questi riti che io chiamerei proprio iniziatici perché iniziatici perché chi compie o assiste come testimone a questi delitti efferati entra in un sistema da cui non potrà mai più uscirne per tutta la vita perché diventa ricattabile quindi è un modo questo innanzitutto è un modo molto pratico molto per tenere legate persone che ricoprono ruoli e cariche istituzionali come per esempio dei magistrati non so piuttosto che alti ufficiari dell'esercito piuttosto che appunto parlamentari quindi queste persone comunque rimangono legati a doppio filo ai mandanti e attenzione i mandanti di questi delitti efferati ma insomma poi Franceschetti e Carpeoro ne hanno parlato tante volte non si espongono rimangono sempre nell'ombra però ciò permette di ricattare a vita queste persone per cui queste persone nell'esercizio della loro attività lavorativa dei loro ruoli istituzionali non sono più libere di agire anche in base alla propria deontologia professionale mi riferisco per esempio ad un magistrato e al caso Porteto che per anni insomma questi magistrati un po' un po' così un po' sbadati hanno hanno fatto finta di nulla per cui nonostante ci fosse una una condanna per abusi su minorenne insomma hanno lasciato hanno affidare bambini a questa struttura piena di pedofili di fatto per cui qualcuno giustamente si riferisce a questo caso in mondo come pedofilia di stato a buon ragione e quindi questo per fare un esempio poi c'è una parte una parte di queste persone che secondo me crede veramente che questi riti iniziatici questi riti di magia nera perché uccidere persone o stuprarle comunque rientra in delle pratiche di magia nera credono che abbiano degli effetti concreti quindi credono che ci siano degli enti delle potenze soprannaturali io adesso non so cosa loro possano pensare possano pensare a dei demoni non so comunque a delle interferenze di potenze che poi intercedono per loro come nel caso del mostro di Firenze era stata avanzata l'ipotesi che i mandanti agissero per scopi terapeutici non so se ricordi insomma perché per problemi di salute o di natura sessuale quindi asportavano gli organi della donna per poi utilizzarli a scopo appunto per così dire magico in dei rituali in cui appunto si propiziava la guarigione della persona affetta dal problema quindi effettivamente molti di questi soggetti credono che compiendo questi atti si avranno degli effetti gli effetti sperati effetti immediati che loro desiderano e qui appunto entriamo anche nel campo della psichiatria perché pronto? Sì sì ti sento ti sento perché appunto giustamente questa studiosa questa antropologa chiamava in causa la psichiatria perché è un'ipotesi molto plausibile quella secondo cui questi soggetti abbiano delle turbe delle turbe psichiatriche delle delle patologie gravissime dei disturbi di personalità ma non può che essere così e non può che essere così che poi vengano anche cooptati nel sistema messi in ruoli chiave in ruoli delicati perché poi le loro turbe psichiche possono sempre tornare comodo a qualcuno che dietro le quinte il regista che deve manovrare tutto dietro le quinte quindi una non esclude l'altra nel senso che c'è la patologia e c'è la magia anzi sono strettamente intrecciate complementare sì sì quindi esiste quindi una valenza concreta della cosiddetta magia cioè tu mi stai chiedendo se se io penso che questi insomma c'è sia magia così chiamata bianca degli effetti reali ecco a questa sì allora diciamo che razionalmente mi verrebbe da risponderti di no perché comunque insomma io anch'io ho una insomma ho una doppia non dico personalità però io sono molto razionale però essendo anche una donna insomma uso anche l'intuizione per cui sono un po' su questo su questo tema sono anch'io un po' lacerata interiormente quindi razionalmente mi verrebbe da risponderti di no però però io adesso non posso spiegarti non posso entrare nei particolari però io stessa sono stata beneficiata per così dire da un atto di magia bianca da un guaritore avevo una patologia neuropatica al braccio alla gamba che ormai andava avanti da mesi e che i medici non riuscivano a insomma a risolvere con i farmaci eccetera anche con dei farmaci molto forti no tuttavia questa questa persona questo questo mio amico che è stato iniziato adesso non posso dirti a quali a quali conoscenze comunque conoscenze esoteriche buone per così dire ha praticato su di me una magia un atto magico e in un giorno sono guarita casualità non lo so non lo so e quindi questo ti ha diciamo e non ho mai più sofferto di questo dolore neuropatico non ne ho più sofferto è chiaro che rimane un dubbio però sai la casualità in questo caso è un po' troppo è un po' troppo per così dire forte ecco la coincidenza per così dire la coincidenza è un po' troppo forte quindi io sì rimango per così dire aperta al dubbio e aperta a tutte le ipotesi ti chiedo l'ultima cosa riferita a quest'ultima cosa che hai detto quando ecco una persona che è iniziata come questo tuo amico questa iniziazione questo genere di iniziazione diciamo si ricevono in ordini di tipo anche massonico o si tratta di altri tipi di diciamo di circuiti circoli chiamiamoli come vogliamo sì si tratta di altri tipi di circuiti legati a tradizioni molto antiche ne ho citato alcune prima quindi in tutte e tre le religioni poi esistono queste tradizioni esoteriche questi circuiti queste correnti esoteriche sotterranee di cui alcuni sono a conoscenza di cui alcuni fanno parte ed esistono da millenni e nel corso dei millenni si tramandano si trasmettono da maestro a discepolo un sapere ancestrale che ha un sapere buono comunque un sapere finalizzato a fare del bene a mantenere a mantenere anche la fiaccola accesa la fiaccola dello spirito nell'umanità e in questo bagaglio di conoscenze rientrano anche le pratiche le pratiche terapeutiche le pratiche di guarigione e sono molte queste realtà questi circuiti nel senso di come diffusione allora sono pochi sono poche anche le persone che vi possono accedere devi avere delle particolari caratteristiche per accedervi devi aver fatto prima un precorso esoterico anche per conto tuo non necessariamente in una in un gruppo in una organizzazione esoterica alcuni sono massoni di alto grado però sono organizzazioni che sono gruppi che non operano alla luce del sole e risalgono a insomma a vari secoli fa quindi una persona diciamo potrebbe essere ad esempio un alto grado della massoneria è possibile che esistano persone che sono sono stati alti gradi della massoneria ma che non conoscono queste realtà le conoscono non ne fanno parte magari però per forza le conosco sì sì sono sicura c'è quindi siccome hai detto che no che il retroterra è quello della diciamo delle tradizioni anche religiose sì diciamo della delle correnti esoteriche delle tradizioni non ecco tra insomma distinguiamo sempre tra esoterismo ed esoterismo perché l'esoterismo è la parte visibile della tradizione religiosa l'esoterismo invece è la parte non visibile o perlomeno non accessibile a tutti quindi anche nella diciamo nella religione cristiana c'è un invisibile che ha che ha voglia ecco sì sì ma anche nell'islam sì anche nell'islam è la cosa straordinaria in base alla mia esperienza che poi è un'esperienza ti dico da esterna perché io non faccio parte di questi di questi ordini anche se per diciamo per casi della vita ne sono venuta a conoscenza no la cosa straordinaria e anche meravigliosa è che questi gruppi iniziatici di elevatura spirituale molto molto profonda hanno tutti un sapere un patrimonio di conoscenze simile quindi c'è un qualcosa che le lega sì sì attingono alla stessa fonte pur con nelle rispettive poi differenze relative diciamo alla propria religione perché chiaro che c'è sempre un qualcosa in comune è un qualcosa che si discostano però la cosa straordinaria è che intanto comunicano tra di loro e c'è una profonda fratellanza tra ordini appartenenti a religioni diverse c'è una profonda solidarietà e fratellanza tra di loro perché riconoscono che la fonte è comune e io per fonte intendo lo spirito non posso dire di più no sì già ecco sono parole che ecco ci permetteranno di riflettere molto questa sera perché insomma in questa seconda parte specialmente hai fornito alimenti molto interessanti che poi ognuno di noi insomma analizzerà e sicuramente verranno fuori riflessioni commenti che ci arricchiranno io ti ringrazio molto Federica di essere stata con noi è stata una bellissima chiacchierata e ne faremo delle altre magari se vorrai più avanti certo volentieri grazie a te è stata una bellissima esperienza anche per me grazie Federica buonanotte grazie buonanotte a tutti ciao buonanotte